Dottor Gallo, il testo Luoghi persi, scritto da Lei e Grandieri, ripropone tanti cortili primo novecenteschi di Biceglie, molti dei quali purtroppo distrutti. Tra questi luoghi persi ritroviamo anche Villa Fiori. Che cosa rende Villa Fiori un luogo perso? E cosa pensa del fatto che questa villa sia letteralmente murata viva? Che cos'è un luogo perso? Che cosa sono i luoghi persi in una città? I luoghi persi in una città sono quei luoghi che, pur essendo carichi di storia, pur avendo una loro intrinseca bellezza, a un certo punto o vengono dimenticati oppure vengono un po' ignorati. E' quello che accade, è accaduto nei cortili di Biceglie, per esempio. E' quello che accade a Villa Fiori. Ci sono una serie di persone che dimenticano l'esistenza di questi luoghi. E' un'altra serie di persone che ci passano vicino e non si accorgono della loro presenza. Quindi un luogo perso quando è perso. Quando è dimenticato. Quando è lasciato andare al degrado. E quando è nascosto da altre cose. Quel muro che sta davanti al Palazzo Fiori. E' l'esempio sostanzialmente di tutte e tre queste cose. Perché? Perché si dimentica che dietro quel muro c'è una struttura urbanistica che è diversa da quello che sta davanti. e che viene occultata da questa emergenza. E' lasciata andare al degrado perché tutto ciò che è coperto viene dimenticato. E tutto ciò che è nascosto da manufatti diversi rischia di perdersi nel tempo. Quel luogo come molti altri luoghi di Bisceglie sono testimonianza innanzitutto della storia di un popolo. E c'è una grande poesia che si 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 innesta nella storia. Poesia e storia fanno la bellezza di un luogo. E questo credo che dovremmo capirlo fino in fondo. Un invito a inviare la cartolina simbolica al sindaco? Sì, io darei immediatamente un suggerimento perché non incominciare a mettere nella città dei cartelli segnaletici Villa Fiori posti agli angoli all'ingresso della città della città in corrispondenza di Corso di Vialdo Moro cioè già questo significa che chi passa con lo sguardo viene attirato dal cartello dal cartello che indica la presenza di un luogo storico e incomincia a ricordare l'esistenza di di questa di questa struttura perché spesso molti non conoscono nemmeno che esiste questa cosa e quindi già un cartello dei cartelli segnaletici darebbero ragione all'esistenza di questo luogo e poi al sindaco io direi questo caro sindaco tu hai il compito di amministrare la cosa pubblica tra virgolette cosa pubblica e per la sua storia e per la sua bellezza Palazzo Fiori o Villa Fiori è da considerare una cosa pubblica e quindi tra i tuoi compiti è quello di difendere e svelare quanto questa cosa pubblica è bella ecco perché comprate quel muro compra quel muro e abbattilo avrai reso alla città un bene pubblico ricco di storia e di bellezza grazie grazie a tutti grazie a tutti